Il consigliere comunale egiziano Andreani fin dal prossimo consiglio comunale tornerà a far parte del gruppo della Lega Nord che conterà di nuovo quattro membri. Andreani era stato eletto proprio tra le fila della Lega Nord. Ho già presentato la richiesta di ritorno nel gruppo della Lega Nord, ne ero uscito non per scelte personali ma per un atto dovuto, visto che avevo avuto una sospensione chiaramente non potevo continuare a stare nel gruppo, quindi per ragioni statutari sono dovuto uscire. Ho cercato di portare avanti quello che era il principio con cui sono partito nel momento in cui ho avarcato la soglia del consiglio comunale, impegnarmi per la mia città e cercare di portare maggior benessere, per quanto sono le mie capacità naturalmente, verso tutti i nostri concittadini naturalmente.